Ciao a tutti, sono io, sempre Lollipastrix e bentornati in un nuovo video perché oggi andremo insieme a Daniele che ve l'avete già visto all'acquistate che è un acquapark vicino a casa mia dove ci sono scivoli, kamikaze e tutte queste cose adesso sono le nove e mezza e mi viene a prendere e dopo noi ci vediamo in macchina ragazzi qua è il Dino dentro un asciugamano e non so più cosa portarmi papà? no, cosa posso portare? cosa posso portare per l'acquistate? buongiorno ciao ma cos'è? buonasera oggi siamo in macchina buonasera con Davide Davide? si Davide, è il nome nuovo tuo tutti ti chiamano Davide sul canale oggi stiamo andando all'Iper ci fumiamo una canna e no 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 questa no perché dopo YouTube ci banna il video come mi hanno fatto col copyright sul video che abbiamo fatto sul 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 anziché ho fatto il video aggiornamenti avevo messo la musica di Dali però velocizzata e sulle regole di YouTube c'è scritto se metti la musica velocizzata puoi metterla e comunque perché cambia cambia perché senti la voce cambiata di Dali e allora no no tipo una casa produttiva mi hanno dato il copiere e dando il copiere mi hanno tolto tutto il video non so chi è quel sostenitore che mi lascia sempre un like sempre c'è sempre in un video un like e non so chi è eccolo qua può essere o se si è scaricato il tablet ieri mentre guardavi il video se entra il video è vecchio no era ieri quello era ieri e ragazzi anche quando vedrete questo video è già uscito l'altro è uscito l'altro cioè farò un video molto particolare con mio padre quindi lo vedrete per la prima volta e spero che vi piaccia detto questo e se non mi piace mi piace no no chedilla no vabbè che muta non è neanche me se non mi piace ha detto piacenza raga piacenza vabbè raga ci vediamo dopo peace mamma mia attenzione lorenzo 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 siamo già in coda attenzione bella a prodo bella a prodo ma runi quando siamo alti occhio non parte no no metti da dentro io ho sempre paura di perderla ah disclaimer se io muoio se io muoio il canale passa a te ok anche la GoPro? no quella là mi può fare ah vabbè no 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 Al prossimo episodio Saluto Facciamo un tuffo Non si può Ciao fatta Non ho registrato però Saluto Fai una subacqua Un po' di meditazione Vai Poco respiro Mi fumi Guarda Mi fumi Mi fumi Mi fumi Mi fumi Mi fumi Mi fumi Noi facciamo un rialax Acqua di giù Giorgio Armani Che adesso cosa proverà Che adesso cosa proverà Cosa proverà Adesso provo il kamikaze all'indietro E a metà E a metà Mi do un Carpiato E faccio un doppio carpiato In stile Tania Cagnotto Per poi fare un backflip Bendato Perché mentre faccio il carpiato Mi bendo E faccio un backflip Dopodiché aspetto la barella E di quello che ho capito Secondo te quanto ho capito No Tania Cagnotto Andiamo in tenenza Tenenza di Youtube Italia Guarda Non vorrei Perché poi diventiamo famosi Sono responsabilità Autografi Ci rubano Ci rubano Ci rubano Ci rubano Perché siamo famosi Allora Volete che diventiamo famosi? No No Perché poi Pagateci Pagateci Però Eccolo 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 Raga Piccola premessa Prima che inizia la clip Qua A un certo punto siamo diventati Come bambini piccoli Perché siamo andati a fare delle giostre Che erano dei bambini piccoli Volevamo provare Visto che era da tanto tempo Che non andavamo In questo posto In questo acquapark E allora volevamo provare Per la prima volta Questi Ehm Giostre per bambini Quindi vi lascio la clip Piccolo disclaimer eh Come bambini Ehm Ehm Bambini Ehm 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 Attenzione raga C'è il nuovo Spider-man 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 Spider-por Sì riso basmati insieme a Daniele ora manciamo a dopo Siamo usciti? Sì, siamo usciti, sì, 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 aspetta Ah no, c'è scritto in ingresso Siamo usciti Siamo usciti, stiamo andando di nuovo a casa, abbiamo fatto 6 ore qua 6 Aia Ci sono divertite, abbiamo fatto tanti tuffi 6 ore e 29 Vedrete le clip che ho fatto E va bene, adesso inseriamo la macchina e mangiamo un bel paninozzo Se la GoPro potrebbe capire quanti gradi c'è in una macchina Potesse 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 Capire quanti gradi c'è in una macchina e metterli nel video sarebbe comodo Te lo dico io Vai 82 Stai chiestando? No, sì, 82 gradi c'è Infatti 40 gradi ci saranno Daniele si è dimenticato di togliere il fomello e adesso scotta E non possiamo partire Facciamo andare solo in prima, giusto? No, andiamo in tutte le marze del mondo Oh, è il mio Non so Ti ho messo doppio strato in Philadelphia Apri questo? Pacca opening Ma è che può compagnare solo Cioè, il pane più buono... Si è tuo Ma è che questo è tuo Oh, ma come fai se è tuo? Ah, questo, vedi? Sei sciolta, mazzale Sei sciolta Ah, ma che... Sei sciolta il pionde Vabbè, a dopo Siamo arrivati alla fine del video Vi ricorda di lasciare un like Comandare E iscrivervi al canale Dillo bene, dai E raga Lui è Antonio Saluta, Antonio Saluta, Antonio Antonio, un saluto A vero, ragazzi Dopo questa gag Noi ci arriviamo al prossimo video Boom Noi ci arriviamo al prossimo video Ciao